Eccoci Vittorino Andreoli, ho detto lo psichiatra con la L maiuscola, lei di fatto è uno psichiatra di fama internazionale, ma lo sappiamo anche un volto noto della televisione, un fertile saggista, per un ritratto che possa durare nel tempo vorrei cominciare dall'inizio, lei ha detto che ha avuto l'onere e l'onore di vedere la fine della guerra e ha raccontato di una famiglia umile, ma intraprendente, coraggiosa e di un papà eroe, perché? Perché mio padre, che non c'è più da credo 40 anni, è ancora un mio punto di riferimento molto forte, fu il mio eroe perché mi ha insegnato a vivere, mi ha dato un esempio forte, io sono nato nel 40 e quindi ho fatto la guerra e nel 43 ricordo che mio padre antifascista gli avevano impedito in fondo di lavorare e era nascosto in un monastero e il mio primo ricordo di bambino è che dopo il 43 bisognava nascondersi, quindi eravamo sfollati presso i nonni materni vicino a questo posto e una domenica alla fine della cerimonia viene un monaco, un'eremita nei miei riguardi e mi sta prendendo in braccio, io sono quasi preso dallo spavento, si tira giù il cappuccio e vedo papà e quindi era stata… Mancano i padri oggi, manca la figura del padre che può essere anche un maestro non padre biologico? Beh certo, infatti sa, genitori sono quelli che generano padri, bisogna diventarlo. Esatto. Ecco, allora, i padri non ci sono negli ultimi anni, però le devo anche dire che guardando chi dovrebbero essere, qualche volta dico meno male, perché per essere padri è un impegno molto forte, perché non si tratta di parlare, di dire, ma si tratta di essere, si tratta di dare esempi. Vede, se lei dicessi, mio padre non è che mi abbia fatto tanti discorsi, però i suoi sorrisi, però le sue preoccupazioni, insomma, il fatto di aver pagato perché la sua azienda, lui aveva un'impresa edile e non poteva lavorare per molti anni, quindi dovete aspettare la fine della guerra, insomma l'esempio e l'esempio resta, perché vede l'esempio è qualche cosa che noi dall'esterno ci portiamo dentro e quindi introiettiamo le figure e poi rimangono anche quando non ci sono più. Senta, un padre è una figura autorevole che però lascia liberi, io non penso che fosse nei piani di suo papà che lei facessero psichiatra. No. Perché l'ha fatto? No, lui voleva che io facessi, continuassi l'attività dell'azienda e per questo anzi mi aveva incamminato verso studi di questo tipo e un giorno quando lui si aspettava e dissi, papà guarda che io mi dedicherò ai matti e rimase un po', però lo fece pensare molto. L'occasione fu una visita al manicomio di Verona, la sua città, San Giacomo della Tomba, che è un omen omen, nel senso che quello era veramente l'inferno e la tomba per i malcapitati. Chiesi al direttore di poter visitare il manicomio perché questa era una mia prospettiva e lui mi portò, io lo ricordo ancora, sai i manicomio allora erano divisi in cinque padiglioni maschili e cinque femminili, e si chiamava primo, secondo, terzo e non c'era una diagnosi, diceva ad un malato di dove sei tu, sono del terzo, quindi terzo padiglione, voleva dire che era più grave di quelli del secondo, ma non ancora il quarto e il quinto. Al quinto erano i malati, tutti erano legati, c'erano gli schizofrenici gravi, i paranoici, che adesso sono fuori, e allora mi portò a vedere queste cose. Poi i cinque femminili, e qui proprio ho visto un'umanità, finito disse, beh avrà cambiato idea, non farà più lo psichiatra, invece ho detto no, guardi, invece adesso sono sicuro che farò lo psichiatra perché qui posso fare qualcosa. Lei ha incontrato come rapporto personale i matti facendoli partecipare e partecipando lei stessa a un laboratorio di pittura, allora le domando, l'arte è un linguaggio, non necessita di un'educazione e quindi della capacità di apprendimento, in poche parole, la follia non è un marchio definitivo sull'intelligenza? Assolutamente no, l'atelier di pittura mi mostrò per esempio che il matto sarà stato irrazionale, ma qualcuno faceva delle cose meravigliose. Io poi ho avuto un matto, Carlo Zinelli, che oggi è considerato uno dei più grandi pittori del novecento. Non c'era solo l'igabue. Non c'era solo l'igabue. Allora, vede, è stata per me una modalità per vedere in positivo e stabilì, insomma, qualche sentenzina, l'ho detta anche io, che anche il malato più grave, però è compatibile con l'espressione più ricca umanamente che è la creatività. Uno dei suoi studi più affascinanti è quello sulla plasticità del cervello, che quindi può cambiare e, a seconda di come la vediamo, migliorare anche. Noi abbiamo un cervello che non è più, come si riteneva in passato, che è un cristallo, se si rompe non c'è niente da fare. C'è una parte che è determinata, cioè è strutturata così, fin dall'alto. Ma c'è una parte qui nei lobi frontali e in queste parti parieto-temporali. Qui dentro c'è un cervello che si chiama plastico, vuol dire che si organizza sul piano delle esperienze. Ed è qui che c'è l'apprendimento, ci sono tutte le memorie. Allora il nostro cervello permette anche cose nuove. Anche allora il matto non solo può apprendere, ma può esprimere la creatività. Ecco perché io amo più i matti che i normali, ce ne sono pochi. Stavo per chiederle perché si può amare la follia e come è possibile. Perché è umana. Inquieta, no? Ma è umana. Lei crede che tutti ne abbiamo una parte? Ma no, ma che però tutti possiamo fare cose folli. Questo sì, questo sì. E quindi io li amo molto perché, beh, a parte che sono vissuto con loro e vivo con loro. Si può curare però anche la follia. Sì, proprio perché adesso, vede, negli anni Ottanta io ho avuto il coraggio di dire ma guardate che il campo della psichiatria è proprio il cervello plastico. Allora è come poter smontare sulla base delle esperienze negative e ricostruire dei comportamenti. Non solo con i farmaci, anche ma non solo. Sì, la mia terza via della psichiatria che è dell'Ottanta appunto sosteneva proprio questo che è la parola. Sai che si diceva verba volant? No, verba non volant. E quindi le parole riescono a penetrare e riescono in qualche modo anche a modificare. Quindi non sono poi così lontane da quello che possono fare i farmaci. Professore, come nasce la follia? Perché la risposta è sempre in un riduzionismo o biologico, sono le molecole cerebrali o sociale, è il mondo, la società o psichico. Guarda, tutto nasce dalla frustrazione perché, vede, la follia non è dentro una statua, ma è dentro un uomo che vive ed è quello che appunto chiamiamo nel rapporto io-mondo, che vuol dire nella relazione. Quindi la follia non è dentro questo uomo e non c'è dentro quell'altro, ma proprio nasce nella relazione. E nella relazione qual è il punto critico? La frustrazione. Il non sentirsi accettati, il sentirsi rifiutati, il provare, l'avere una madre che invece di accogliere, è antagonizzata, qualche volta ama, qualche volta rifiuta e poi più avanti le difficoltà di inserimento. La frustrazione è un senso di maldessere che noi proviamo in un certo ambiente. In un altro, dove non lo proviamo, non rispondiamo alla frustrazione. Allora dovremmo pensare che ci sono più matti tra i poveri, tra i diseredati, tra i disagiati? Beh, ci sono purtroppo, la povertà qualche volta è un'accettazione passiva. Voglio dire, oggi è invalsa l'abitudine di attribuire al termine generico follia, che non sappiamo neanche catalogare, qualunque azione noi non riusciamo a comprendere. Lei sa che però, molte volte dico, anche di fronte a delitti, io dico, no, non dite che questo è un folle, perché andate contro, non rispettate i matti. Questa è una confusione, perché non abbiamo mai trasmesso chiaramente che cos'è la follia e allora la gente non capisce perché vorrebbe contemporaneamente che uno fosse matto e che fosse punito. no, dice, ma se uno è matto vuol dire che non è in grado di capire cosa ha fatto e non va curato e non punito. E dove lo mettiamo per curarlo? Non lo so, questo è un altro discorso, perché insomma se lei mi fa parlare della psichiatria le devo dire che la psichiatria del tempo presente è proprio una scienza infelice, fu definita così da Colombo, è bellissimo questo termine, ma però è così, perché non sa, è disorganizzata, non ha ancora capito l'umanità della follia. Perché abbiamo lasciato a carico delle famiglie questa responsabilità, no? Sì, però ecco c'è un concetto che però bisogna prendere, allora per valutare un comportamento normale o folle, ma virtuoso oppure viziato, bisogna tener conto che il comportamento dipende da tre cose, prima dalla biologia, la biologia è importante, il corpo, la carne, che poi si chiama il genoma, eccetera, ma è questa carne, capito? Non basta qui, perché altrimenti faremo il riduzionismo all'allombroso. Il secondo fattore è dato dall'esperienza, che è l'esperienza che costruisce la nostra personalità e noi siamo continuamente in costruzione, perché lei pensa che una persona vecchia come me non sia diversa o non cambia ancora. Siamo plasmabili, certo. Ecco, allora, quindi secondo elemento, dall'esperienza che uno ha fatto. Terzo elemento, dall'ambiente, quella che chiamiamo società, ma ambiente inteso, anche geograficamente, ma soprattutto con le relazioni. Allora, per stabilire se uno è normale o se uno è folle, bisogna tener conto di questi tre fattori. Allora, non se ne può più di sentire parlare, la società ci rende male. Certo, è uno degli elementi, ma sono tre. Io ne introduco un quarto. C'è il peccato e la responsabilità personale che possono anche provocare la follia. Io so che lei da ragazzo, come molti, ha avuto un'educazione nei movimenti dell'azione cattolica, prima gli oratori, come molti ragazzi. Poi dice che un giorno ha letto Marx e ha smesso di credere, di appartenere alla Chiesa. Ma come si può spiegare il male se togliamo Dio dall'orizzonte del mondo? Il male personale dentro è dell'uomo. Il male che lui fa è il male che è in lui. Ma, dunque, certo che è una domanda a cui non posso rispondere come psichiatra, forse doveva invitare qualche... Beh, insomma, perché si sarà interrogato sulla genesi del male, no? No, si figura, però vede, allora, qui bisogna fare una premessa. Io amo l'uomo, in qualsiasi dimensione si trovi. Io mi sono occupato dei casi dei peggiori criminali. donato bilancio, ha ammazzato 17 persone in sei mesi. Ecco, io l'ho analizzato, sono stato con lui per cercare di capire... Riusciva ad amarlo? Allora, beh, io vedo l'uomo anche in lui. E quindi, sa, vede poi lo psichiatra non deve giudicare. Anche quando si va in tribunale, io ho un compito di comprendere. Per comprendere devo penetrare e devo mettermi in gioco. E quindi lascio giudicare poi la giustizia, i giudici, ma io devo capire. E posso dirle che amo l'uomo in qualsiasi dimensione. Non mi consideri pazzo, perché c'è uno che lei conosce bene, mi pare sia nato a Nazareth, da quelle parti, che più o meno la pensava così. Allora, io amo l'uomo, io credo nell'uomo e io sento, ho tentato di aiutarlo, ma non so se l'ho fatto. Certo che se ci sono riuscito dipende dal fatto che io sono come la condizione umana, ci lega a tutti i nostri, io sono fragile. La fragilità degli uomini. Il senso del limite che si è perso. Il senso del limite, del mistero. Allora, io vedo che il male ha una dimensione nell'uomo. Su questo lo vedo, perché so che con queste mani posso accarezzare, ma si può anche… Uccidere. Le stesse mani, pensi. Si può suonare un notturno di Chopin e sparare. Questo è uno dei grandi misteri dell'uomo. E allora, questo è, questa è, ma io amo proprio perché ci sono i misteri. E lei sa che ho fatto laboratorio, io amo molto la scienza, voglio una psichiatria scientifica, ma questo non impedisce il mistero, il senso del limite. E la risposta non c'è. Non c'è la risposta, vero? Questo, io credo, nella sacralità dell'uomo. Dopodiché ci sono le religioni che danno risposte al sacro. Lei sa che gli psichiatri ad un certo momento si sono messi a studiare anche un uomo che si chiama Gesù di Nazare. E un grande teologo, che è Romano Guardini, disse, ma cosa fate psicologi? Ma se questo è Dio, che cosa vuoi fare? E guardi, a me piace molto Romano Guardini, però l'ho disobbedito. Perché era anche uomo. Perché io ho detto, ma c'è scritto Dio in quel… Si è fatto carne. No, ma sì, ma Dio. Uomo e Dio. No? Ecco, allora io guardo solo questo, se serve. Innanzitutto l'ho difeso perché gli avevano detto che era pazzo e l'ho analizzato oggi e ho detto agli psichiatri che si sono occupati nell'Ottocento che hanno sbagliato tutto. Ma a parte la diagnosi psichiatra, sa che sono pochi quelli che adesso possono contraddire le mie diagnosi perché leggo lo psichiatra anche per età. Ha capito? Quindi non temo. Ha una certa autorità. Allora, io credo che il male, certamente l'uomo può fare il male, però laddove vedo il male vedo anche la possibilità di evitarlo. Io incontrai Paolo VI proprio sul male, io scrissi un libro allora che si chiamava Demonologia e Schizofrenia. Era agli anni, credo, 75-76 e seppi dopo che il pontefice Paolo VI avrebbe scritto la famosa lettera sul male. Vuole sapere oltre che alla mia idea che cosa la psichiatria diceva e mi ricordo sempre che alla fine del secondo incontro personale, era la tarda mattinata e lui disse, ah ma professore, vengo, si usciva da questo studio, e c'era quella lunga, quella galleria e mi prese sottobraccio, lei sa che era piccolino insomma ed era sofferente e mi prese sottobraccio e quindi abbiamo camminato e mi diceva, andando avanti, perché era un uomo che soffriva molto, soffriva, penso per l'unico, dice il professore, il male c'è professore, il male c'è professore e continuò a ripetermi per un po' questa cosa. Siccome è stato un uomo che per me è stato un esempio, credo che lui vedesse il male proprio nell'ambito di una visione più ampia, che è quella del cielo e ne ho un rispetto enorme, io posso parlare del male dentro l'uomo. Lei sa che quante follie sono state considerate possessioni diaboliche, no? Lo so, lo so, era questo il tema fondamentale e Paolo VI mi disse, ma la prima domanda professore, ma nella sua professione qualche volta ha trovato dei pazienti che erano fuori dagli schemi della psichiatria? E io gli dissi sì, però ho sempre pensato che la psichiatria è ancora poco, sa ancora troppo poco. E che forse deve avere schemi più larghi, no? E che io posso aiutare in questo, ma lei sa cosa c'è qui dentro. Senta, a proposito di quel che c'è qui dentro, lei disse una volta che la caratteristica dell'uomo europeo è quella di essere stato homo faber, oggi però furia di fare e di fare anche comunicazione proprio tattile, non si pensa più. E qui arrivo al suo La gioia di pensare, che poi è la prosecuzione di un discorso, no? Dalla gioia di vivere e sono ovviamente due cose collegate, perché pensare fa star bene e fa anche bene alla salute, giusto? Però si pensa sempre di meno. Sì, fa bene all'essere, fa bene a chi vive, a tutti, non solo ai malati. Ma dunque, guardi, allora qua devo farle una confessione, non chiedo la soluzione. Non posso. Io sono un tragico, perché? Perché vivo in mezzo alle cose, ai casi estremi. Mi hanno anche definito lo psichiatra dai casi estremi. Mi piace proprio la follia, così come i casi più estremi ho visto nel comportamento anche dell'uccisione. Però oggi, oggi veramente è tragico il mondo. Mi deve credere in questa. Allora ho detto, questo è il momento per parlare della gioia. Gioia, non felicità. Perché tutti cercano la felicità che è un aspetto individuale. La felicità riguarda lei, il suo io. Ecco, io sono un infelice gioioso. Che vuol dire? Che amo quella sensazione che deriva, che io sento e che posso distribuire agli altri. E la raccolgo dagli altri. Come si fa? Adesso sono felice. Se tuo nipote ha il male di pancia o ha dei problemi. Allora, c'è bisogno del noi. Ma un noi non è quello della connessione digitale. No, questo è il sangue. Allora, questa dice, è la rete. Noi stiamo non usando più questo. Questa è la vera rete. Questa è la creatività. Ma bisogna usarlo per pensare a qualcosa o per pensare e basta? Pensare, guardi, pensare è bello. Guardi che non mi rivolgo mica agli intellettuali. Lo so, lo so. Non mi sono mica tanto simpatico. Questa è un'agenda, no? Sì. È un pensiero al giorno. Cioè, qua per tutti. Certo. Quindi, io vorrei dire alla gente, ma non sai la gioia che c'è nel pensare. Perché tu credi di pensare qualcosa di definitivo. Invece il pensiero produce altri pensieri. E tu stesso ti meravigli di quello che pensi. Ma si impara a pensare perché io posso pensare da sola, credere di pensare da sola. Ma in realtà penso quello che vogliono farmi pensare altri. Quindi la mia soggezione al potere diventa ancora più forte. No, perché è un potere che non pensa. Guardi, l'unica cosa che le dà il potere sono dei desideri di oggetti. Cioè, il potere le dà, proprio la sottomette dicendole per star bene tu devi avere l'ultimo telefonino. E noi pensiamo solo a quello, no? Alla vera cosa. Ma perché non pensiamo? E allora la ubbidiamo passivamente. Il pensare è proprio che io dico, fate un pensiero al giorno. E scoprite allora che guardando, ma non un fiore, guardando un essere umano. La realtà. Non il pensiero, sai sono quelli che pensano, l'intellettuale. Senta, non mi sono simpatica. Io non voglio essere un intellettuale, io amo essere una persona che vive, però il pensiero è una grande cosa, è ciò che si rende umani. Ma è terapeutico anche scrivere, no? Certamente, sì. Finita un'agenda, cioè un anno, se ne apre in genere se ne comincia un'altra. Che cosa aspetta dalla prossima agenda? Mi aspetto che le persone comincino ad usare veramente il pensiero, perché stiamo regredendo, cioè proprio mi credo a una crisi di civiltà, stiamo regredendo all'uomo pulsionale. La follia aumenta in questo caso? Sì, perché diventa pulsione. Vede, il termine pulsione sostituisce il vecchio istinto, ma però è più giusto pulsione, perché l'istinto dà l'impressione di qualcosa di nell'uomo. Mentre la pulsione è qualcosa che ci spinge, ma che possiamo in qualche modo frenare, i freni inibitori, non ci sono più. Noi ormai, voglio questo? E non vedo, ma è successo anche, succede ogni giorno, insomma. No, quello desidera una cosa. Uccido i genitori, uccido la fidanzata. Sì, ma perché è un ostacolo. Allora, siccome è un ostacolo, lo tolgo e non sa più il senso della morte. Allora fa un pensiero che cos'è la morte. Magari trovi il mistero, magari trovi la soluzione di una religione. Ecco, questo, il pensiero per me è sacro. Vede, la donna. Grande problema della donna, perché la regressione verso la pulsionalità ritorna a fare della donna la preda. Eh, questo è tremendo. Ma allora pensa alla sacralità della donna. La sacralità, mi interessa più la sacralità della donna che può diventare madre rispetto a quella che può diventare il CEO. No, l'amministratore delegato. La madre. Ah, che meraviglia. Sta diventare il laboratorio. Un laboratorio in cui dal nulla o comunque nasce un bambino e poi più avanti nasce un vecchio. Ecco, allora se non pensiamo, fa un pensiero. Fa un pensiero su che cos'è la donna rispetto a te, uomo. Questo aiuta anche appunto a lenire le incomprensioni che ci produrrebbero soltanto depressione e tristezza e oggi ne abbiamo vari motivi. Qual è la sua speranza, professore? La cosa che spero e che desidero di più. E anche qui devo esserle molto chiaro. Io spero che si capisca che l'uomo per vivere insieme ad un altro uomo deve costruire un umanesimo. Manca un'educazione allora. Anche l'educazione, ma un'educazione che non deve essere di parole. Deve essere come dicevamo all'inizio. Però vede l'umanesimo. Vede, a me piaceva una volta un grande papa disse. Bisogna che, non le dico che, bisogna che rendiamo prima l'uomo umano e dall'umano che lo passiamo al divino. Io sto lavorando qui. Io spero molto a fiducia che l'uomo capisca che così l'egoismo, il denaro, questo è il grande male. Il potere, che è una malattia sociale in cui uno crede di guarirla aumentando il potere. E che vale a tutti i livelli, dal più umano all'alto. Certo, perché il potere ci ha reso tutti i piccoli potentini per poter lui essere più. Allora, la fragilità, questa è la mia parola. Mentre la fragilità mia mi porta ad aver bisogno dell'altro. Quindi è un valore. Non è un sintomo, è una condizione umana. La condizione umana è la mia fragilità, che però mi porta ad aver bisogno dell'altro. E l'altro della mia. E guarda che strano, due fragilità danno forza per vivere. Il potere ha bisogno di lei, ma per sottometterla. Quindi io, lei lo sa, che il potere la considero la più grande. Ha bisogno che siamo soli per poterci dominare meglio, no? Siamo slegati. Se gli uomini non sono comunità, sono più facilmente sottomettibili. Sottomettibili. Certo, però bisogna proprio, ecco questa rete, è la relazione, la rete. Relazione che vuol dire... Non è quella di Facebook, insomma. No, no, questa. Per carità, lei sa che io non demonizzo quell'affalino che c'è anche lei in tasca, l'ho visto prima. Allora, non lo demonizzo, è una cosa che ha un grandissimo pensiero, le grandi scoperte della scienza. Insomma, è importante, però la human life, la vita umana, non può essere sostituita dalla digital life. O questa serve a vivere, serve ad aiutare a vivere, oppure non è positivo. Se lei vede, non ho mai usato il termine male che lei invece mi vuole, perché io sono convinto che quell'uomo che ha fatto delle cose inaccettabili, quell'adolescente che ha fatto delle cose incredibili. E io sono andato spesso, hanno ucciso la sera, io il giorno dopo ero là incaricato dal magistrato e vedevo questo ragazzo. Ero sicuro, guardi, è automatico. Dopo dieci minuti piangeva e diceva, oddio, cosa ho fatto io. Allora, lei capisce che noi non stiamo educando i nostri figli, i nostri nipoti a fare le cose prima a pensarci. C'è un empirismo radicale, per cui prima si fanno le cose e poi casomai ci si pensa. Questa è la storia degli adolescenti. Bisogna fare tutto in tempo reale. Quindi lei crede nella redenzione? Dell'uomo. Sì, ma l'ho sempre detto che è cattolico, l'ho sempre pensato in effetti. Mi regala una musica, una canzone che ama molto e che in questo momento le dà la gioia con cui possiamo chiudere questa chiacchierata? Le devo dire che non sono un grande, cioè passo… Non canticchia sotto la doccia. No, per esempio le direi, vuoi sapere qual è la musica che ascolto più spesso? E questa la sorprenderà. La missa in do minore, opera 427, di Amedeus Mozart. Io non commento, l'ho detto prima. È la cosa più straordinaria che c'è. E allora, perché nelle canzoni ho paura di… mi metto in difficoltà, ho paura di fare errori. Però questo sì che consiglierei, invece di sentire qualsiasi canzone, di sentire Et incarnatus est, del credo di Mozart. Io ce l'ho detto. Che era un pessimo, con le donne era terribile per esempio, non capiva niente, però quando per esempio, quando dedica queste sonate, salve regina, alla Madonna… C'era qualcosa di divino e lui, no? Bravissima. Grazie. C'è qualcosa di sacro. Grazie, grazie davvero. La stiamo ascoltando. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.